Perugia San Benedettese, il Grifoni in campo con il 3-5-2 con Fulignati in porta, Rosi, Monaco Centrale e Sgarbi in difesa. A centrocampo c'è Cancellotti con Moscati, Sunas, Dragomir e Favalli. Davanti la coppia è formata da Melchiorri e Mulano. E' proprio Melchiorri che tenta questo affondo, c'è il tiro, ma è la bella parata del portiere nobile della San Benedettese. Al quindicesimo c'è questo cambio di gioco di Rosi, intercettato da Mavuli. Il centrocampista tira, ma Fulignati è attento e prende la sfera. Ancora la Samb in avanti, questo costa in aria, trattiene Mavuli in area Sgarbi per l'arbitro e calcio di rigore. Da rivedere sicuramente la trattenuta di Sgarbi sul centrocampista. Rivediamo infatti le immagini di questo cross. Entrambi forse si stanno attorno, ma c'è comunque il calcio di rigore. Dal dischetto l'ex interista Ruben Botta. Il tiro, gol. 1-0 per la San Benedettese. Ruben Botta porta in vantaggio la squadra di Gironelli. Rivediamo l'assumazione del centrocampista avanzato della San, che oggi aveva giocato in attacco al posto di Maxi Lopez. Ancora Rosi, attraversone in aria. Arriva Murano, si divora così il potenziale pallone dell'1-1. Incredibile occasione gettata al vento da Murano. Ancora la Samb che cerca di affondare il colpo. Ancora un cross in aria. C'è questo tentativo morbido e facile. È la presa di Fulignati. Il tiro di Angiulli e c'è il palo clamoroso da 30 metri, l'ex centrocampista della Ternana. Rivediamo questo tiro, questo sinistro, che colpisce forse l'incrocio dei pali difesi da Andrea Fulignati. Ancora c'è questa volta il Perugia in avanti. Sunas verso Cancellotti. Il cross in aria. Federico Melchiorri. Così pareggia le sorti. Bellissima torsione di testa. Bellissimo il gol di Federico Melchiorri. Rivediamo Sunas. Cancellotti. Cross in aria. Melchiorri è perfetto nel girare la palla in rete e battere Nobile. 1 a 1. Perugia non molla ancora in avanti. Così è questo tiro di Murano. La palla sorvola di poco. La traversa si va al riposo. Così le immagini di solo tempo. Ruben Botta. Bellissima la risposta di Fulignati su questo tiro dell'ex interista. Su un calcio di punizione. Perugia che cerca di affondare Federico Melchiorri ancora. Si porta in aria. Il tiro a giro. E la risposta di Nobile. Ma sulla rispinta non è prontissimo l'esterno del Perugia. E Murano intanto chiede il cambio. Ancora la Samba in avanti. Recupera. Fera il Perugia. Ma la Samba di fa sua. Nocciolini chiede un tocco in aria. Ma l'abito non è dello stesso avviso. Vediamo le immagini. 93esimo. Si lotta fino all'ultimo pallone. La gara finisce qui. Samba in tese 1. Perugia 1. Andiamo a leggere i risultati della Lega Pro Girone B alla nuova giornata. Fano su tiro a 1 a 1. Carpi e Regnago 0 a 0. Cesena, Fermana 1 a 1. Ferralpi, Salò, Vispessaro 1 a 0. Gubbio, Tirestina rinviata. Imolese e Modena 0 a 1. Mantua, Rizzo rinviata. Mattelli, Caravenna 3 a 2. Padova, Virtus, Verona 2 a 0. Samba del Tese e Perugia 1 a 1. Andiamo a vedere la classifica della Lega Pro Girone B alla nuova giornata di campionato. Padova punti 20. Perugia, Ferralpi, Salò e Carpi 17. Suttirole, Modena 16. Mattelli che Triestina 14. San Benedettese e Mantua 13. Legnago e Molese 12. Virtus, Verona e Cesena 11. Ravenna 9. Vispessaro e Fermana 8. Fano 4. Gubbio 3. Arezzo 3. Ora andiamo a vedere la prossima giornata di Lega Pro. Decima giornata di campionato. Arezzo, San Benedettese, Fermana, Fano, Legnago, Matelica, Modena, Carpi, Perugia, Padova, Ravenna, Gubbio, Suttirol, Mantua, Triestina, Imolese, Virtus, Verona, Ferralpi, Salò, Vispessaro, Cesena. Un pareggio buono quello che il Perugia accoglie a San Benedetto. Certo, tutti avevano fatto la bocca con la vittoria e ci si aspettava la quinta vittoria. Devo dire che non è mancato poi molto perché le occasioni il Perugia le ha create, anche se il gioco ha funzionato a singhiozzo. Perché il Perugia è mancato nella fase centrale del campo, quella nella quale avrebbe dovuto tenere più palla, giocarla, cercare di costruire il proprio gioco anche con un palleggio più fitto, viste le qualità tecniche superiori a quelle dei marchigiani. Invece spesso i centrocampisti si sono schiacciati troppo indietro, hanno lasciato troppo spazio tra sé e la linea davanti, per cui molte volte il pallone veniva recuperato dalla San Benedettese che poteva giocare con più continuità. Questo non ha portato però quasi nulla alla San Benedettese in termini di occasioni, perché oltre al rigore, dubbio, anche se c'è stata un'ingenuità di sgarbi sicuramente, e a un palo colpito con un tiro da lontano, la San Benedettese di più non ha fatto. Invece il Perugia, oltre al gol, ha avuto due nitide, nitidissime occasioni con Murano e Melchiorri che se ne sono divorate. E poi nel secondo tempo una situazione nella quale Bianchimano ha tentato un passaggio all'indietro, sbagliando di qualche metro, altrimenti anche lì il Perugia avrebbe potuto assestare il colpo della vittoria. Perugia che quindi ai punti ha fatto più della San Benedettese sicuramente, ma è mancato appunto nella fase di costruzione del gioco. Però il punto in vista del Padova è un punto buono, San Benedetto non è un campo nel quale passeggerà nessuno. Con il Padova purtroppo ci si arriva, con il Padova e poi con il Carpi, nel momento meno indicato per le tante assenze dovute a infortuni e Covid. Oggi si è fatto male pure in Murano, speriamo non sia niente di grave. Però il Perugia dovrà comunque sfoderare le armi della concentrazione, della grinta, della propria compattezza e solidità. Solo così potrà cercare di tenere a testa il Padova che per qualità di organico e per completezza di organico è al momento la squadra più forte del girone, almeno sulla carta, ma poi lo è anche in classifica. E poi il calcio è strano, magari ci può scappare una partita che non ti aspetti. Però, insomma, esce da San Benedetto con un punto e è un punto sicuramente da non disprezzare. Il Perugia torna con un appareggio dalla trasferta di San Benedetto e del Tronte al termine di 90 più minuti che hanno visto la squadra di Cacerta recriminare, non solo per il calcio di rigore, concesso agli avversari di inesistente nel primo tempo, ma poi perché dopo aver trovato il pareggio con l'ennesimo, il terzo gol stagionale di Melchiorri, proprio l'attaccante bianco-rosso ha avuto sui suoi piedi l'occasione per andare sul 2-1, occasione che poi fa valli, anche lui sprecato nel proseguo della stessa azione. Quindi un Perugia che ha avuto maggiori occasioni, maggiori pericolosità rispetto all'avversario, ma tutto sommato questo pareggio, viste anche le assenze che hanno costretto Cacerta un po' a ridisegnare, non tanto il modulo quanto la formazione iniziale, alla fine va preso per buono, soprattutto in vista dello scontro diretto di mercoledì prossimo con il Padova, a tre punti ora e che in qualche modo darà un primo segnale evidente di quello che sarà il destino del Perugia in questo campionato. La squadra ha dimostrato anche oggi di avere carattere, di avere gamba, di avere senso del sacrificio e soprattutto quello di credere in qualcosa di importante, la reazione dopo la rete subita anche ingiustamente nella dimostrazione. Ma ormai da questo punto di vista possiamo stare tranquilli, certo ce la migliorare su tante piccole, grandi situazioni di gioco, soprattutto perché non sempre ciò che viene creato viene poi trasformato. Ma mercoledì sapremo di che pasta sono fatti i grifoni e soprattutto quale sarà la piega del campionato del Perugia. Tutto sommato un buon pareggio quello ottenuto dai Biancorossi sul campo della San Benedettese, perché ottenuto appunto su un campo molto difficile contro una buona squadra compatta che ha interpretato molto bene la gara. Ciò nonostante il Perugia sia reso pericoloso, ha avuto numerose occasioni da gol, al di là appunto della rete siglata da Melchiorri su preciso cross dalla destra di Cancellotti, dando sfoggio di una prestazione che ha confermato quel processo di crescita visto dopo Mantova e che ha avuto seguito nelle quattro vittorie consecutive ottenute appunto prima della partita di oggi. Un Perugia rimaneggiato causa assenze, anche causa Covid, date le positività di Crialese e di Elian settimana, che si sono aggiunti appunto a degli infortuni abbastanza pesanti in ogni reparto. Ciò nonostante la formazione di Caserta si è espressa molto bene, dopo un avvio molto difficile, dopo 15-20 minuti nei quali la San Benedettese si è mostrata squadra appunto più che organizzata, il Perugia è venuto fuori. Le combinazioni offensive sono state buone, i duetti tra Melchiorri e Murano sono stati di assoluta qualità, il centrocampo ha tenuto bene botta, guidato da un Zunas che ha giocato a tutto campo, correndo tanto e proponendo calcio. Molto bene anche sui out i cosiddetti rincalzi, ovvero Cancellotti e Favalli, che hanno concesso molto poco difensivamente, si sono prodigati soprattutto Cancellotti a destra in discrete proiezioni offensive. Il reparto difensivo ha tenuto molto bene, eccezione fatta per l'errore individuale di Sgarbi che ha portato alla concessione del calcio di rigore. Lo stesso Sgarbi si è perso il diretto interessato in area, stendendolo poi colpevolmente e risultando appunto probabilmente il meno positivo dei bianco-rossi in campo. E adesso ci apprestiamo ad affrontare il Padova, una delle formazioni insieme appunto al Perugia e forse alla Triestina deputate a provare a vincerlo questo campionato. Sfida molto dedicata a quella di Mercoledì Alcuri, perché come detto il Perugia purtroppo ci arriva con tante defezioni alle quali potrebbe essersi aggiunta quella di Murano, uscito per infortunio per un supposto risentimento muscolare a metà ripresa. Eppure, ribadisco, questo è un buon pareggio, un buon punto al termine di una buona prestazione perché mister Caserta sta lavorando molto molto bene. D'altronde dopo quattro vittorie è un pareggio, non si può che essere ottimisti di fronte alla grande crescita dei bianco-rossi alla quale stiamo assistendo ormai da qualche partita. Non era semplice affrontare la San Benedettese tra le mura amiche, eppure il Perugia lo ha fatto con caparbietà ed ha conquistato un punto importante, soprattutto per il morale, non tanto per la classifica, perché il Padova, cinico, molto più cinico dei Grifoni, vince e se ne va a più tre. Mercoledì prossimo ci sarà questo scontro tra Perugia e Padova, uno scontro che vede il Perugia sicuramente in grado di poter creare dei grattacapi all'11 di Mandorlini. A patto però che Caserta riesca a recuperare qualcuno in attacco. L'infortunio di Murano contro la San Benedettese non ci voleva, Bianchimano è apparso ancora acerbo per giocare con continuità e quindi risulta essere un'arma preziosa, sicuramente a partita in corso. Murano invece si sposa meglio con Melchiorri per le caratteristiche che i due possiedono nello scacchiere tattico del 3-5-2. Certo Caserta non potrà recuperare Minesso, almeno non per mercoledì, ma forse per la gara contro il Carpi, ma qualora riuscisse ad avere più frecce al proprio arco, potrebbe sicuramente far male al Padova come a tutte le altre squadre che compongono questo girone. Ma fino ad allora bisognerà guidare con prudenza e soprattutto fare attenzione e ricordarsi che certe partite è bene non perderle. Buon pareggio del Perugia San Benedetto del Tronto, un 1-1 che considerando le tante assenze e numerose defezioni ci può stare. Il Perugia ha giocato una buona partita, è riuscito anche ad recuperare il risultato dopo lo svantaggio iniziale nel corso del primo tempo. Poi nel secondo tempo, forse vista anche il progressivo innalzamento dei ritmi da parte del Perugia e il calo anche fisiologico della San Benedettese, forse avrebbe potuto fare qualcosa di più. C'è ancora grande rammarico per le due occasioni sfumate. Prima del pareggio, una a testa da Murano e da Melchiorri, guardiamo il bicchiere a mezzo pieno, un buon pareggio, anche se la vittoria contemporanea del Padova riporta i Veneti a più tre sul gruppetto delle seconde, che è composto oltre che dal Perugia anche dal Carpi e dalla Ferralpi Salò. Ora, mercoledì sera, ci attende proprio lo scontro diretto con il Padova, uno scontro diretto che il Perugia dovrà necessariamente provare a vincere per annullare questo svantaggio e agganciare i biancoscudati al primo posto. Non sarà facile, il Padova sta preparando questa partita ormai da diverse settimane, l'ambiente è carico, la squadra di Mandorlini è molto concentrata, sembra non fermarsi mai e sicuramente preparerà questa gara al meglio. Il Perugia di contro, che ancora sembra un po' più rallentato, un po' più sulle gambe anche a causa del ritardo di quasi ben tre settimane sulla preparazione rispetto alle altre squadre, dovrà necessariamente mettere in campo soprattutto le sue individualità per cercare di avere la meglio. Il Perugia torna da San Melletto del Tronto con un buon punto in un campo difficile, è sicuramente positivo il momento dei Grifoni, che trovano il quinto risultato utile consecutivo dopo un paio di settimane che avevano fatto temere che questo Perugia non fosse la terza delle categorie. Invece il Perugia è cresciuto e dopo quattro risultati positivissimi, come quattro vittorie, oggi ha trovato un pareggio, un buon pari comunque in casa della San Mellettese, una squadra che ha cambiato da poco allenatore, che ha messo già in difficoltà la Suttirol la scorsa settimana e oggi ha trovato il pari con il Perugia. Un Perugia che poteva anche ottenere qualcosa di più da questa partita, perché oltre al gol del Sampellettese, che ha trovato sul rigore con Ruben Botta, è un'altra occasione, un tiro di Angiulli dei 30 metri ha costruito ben poco. Chi ha costruito di più è il Perugia e purtroppo ha anche divorato un paio di occasioni importantissime, con Melchiorri forse il migliore in campo di oggi e con Murano. Melchiorri poi ha segnato anche con un pregevole colpo di testa il gol del pari. Quindi alla fine è un buon punto che comunque mantiene il Perugia nelle posizioni alte di questa classifica, che lo lancia verso la prossima gara interna contro il Padova a poche lunghezze dalla capolista, quindi è un Perugia che, anche se oggi non ha vinto, ma non si può vincere sempre, ha comunque dimostrato sul campo di essere una formazione all'altezza di questo campionato, all'altezza dei primi posti, e quindi avanti così e con fiducia. Il Perugia ottiene un meritato pareggio nel difficile campo della Sampellettese e porta cinque le gare utili e consecutive. Da rilevare che nelle nove gare che ha disputato il Grifo in campionato è andato sempre a segno. Oggi ha messo in campo anche Carattere, e sebbene è andato in svantaggio in virtù di un rigore francamente molto dubbio, è riuscito a riprendere la partita. Molte indicazioni positive che fanno sì che il bicchiere sia mezzo pieno. Un Perugia che ha carattere, un Perugia che ha cominciato a essere squadra e a interpretare al meglio, soprattutto nel primo tempo, i dettami tecnico-tattici del allenatore. È un Grifo che ha saputo fare necessità di tu, nonostante le tante assenze, ha giocato con il cuore. Tante indicazioni positive, adesso ci aspetta la gara di tutte le gare, quella contro il Padova, che vedrà il Perugia affrontarlo nel proprio campo. Perugia affrontarlo nel proprio campo.